Qual è la truffa che sta dietro il progetto della TAV? Essenzialmente la truffa consiste nel fatto che si tratta di un'opera che non ha nessuna redditività economica e nessuna funzione di utilità per il paese. Conviene semplicemente a chi la costruisce e a chi fornisce la materia prima, cioè cemento e tondino. Ci sono dietro le acciaerie, ci sono dietro i cementifici, ma specialmente c'è dietro un apparato economico in gran parte parassitario che è culato dalle imprese di costruzione e dai loro rapporti con i partiti. Si tratta di un'opera che su base razionale è del tutto inutile. L'unico tipo di utilità è per chi sarà interessata alla costruzione o chi presterà i soldi, cioè le banche che presteranno i soldi con restituzione garantita dallo Stato. È un tipo di investimento sicuro in cui gli unici sicuramente in perdita saranno gli italiani che lo pagano. Il progetto dell'alta velocità non riguarda solo la Torino-Lyon, anzi, ne è già stata realizzata una parte da Napoli a Milano, poi da Milano a Torino e i costi delle parti realizzate sono stati esorbitanti, quasi incredibili. Il confronto con il costo delle tratte, cioè il costo al chilometro di tratte simili costruite in altri paesi è pazzesco, nel senso che da noi sono costate da 4 a 5 volte di più. E questa non ha nessuna spiegazione razionale. In altre balle che viene raccontato noi abbiamo anche le montagne, sì, noi abbiamo un territorio difficile, poco adatto a una linea di questo genere, ma i costi sono stati esorbitanti anche sulla Torino-Milano, che notoriamente di montagne in mezzo non è neanche l'ombra, insomma. Dietro questo sistema c'è un quacervo di interessi che agisce all'oscuro, i centri di potere decisionale non sono affatto aperti, insomma, neanche le sedi in cui si prendono le decisioni in realtà sono note. E la grande forza di questo sistema è che è in grado di distribuire denaro in tutte le forme possibili e immaginabili, molto in nero, ai partiti politici, alle imprese di costruzione e così via. Però questa opera è voluta anche dall'Europa? Adesso, questo fatto che sia voluto dall'Europa, in realtà, senza volere esagerare troppo, ma se si guarda bene, la situazione europea in questi settori è molto semplice, è piena di lobbisti di vari settori in cui si spartiscono il denaro europeo, insomma i finanziamenti europei. L'essere voluto dall'Europa significa semplicemente che i lobbisti che erano interessati a questa tratta e che sono essenzialmente legati in Francia alle imprese di costruzione della regione Ronalp e in Italia alle imprese di costruzione o ai gruppi bancari che hanno interessi finanziari della regione Piemonte, ecco, questi gruppi sono riusciti a imporre o ottenere una parte della torta, una fetta della torta, insomma. Dopodiché queste spartizioni vengono accettate da tutti perché in un certo senso la maggior parte delle persone che si trovano in queste commissioni rappresentano degli interessi localizzati nei loro paesi e questo è il significato della vola all'Europa. E se poi, come è successo con il canale sotto la manica, non si divilasse redditizia, chi è che pagherebbe? In quel caso hanno pagato i cittadini francesi e inglesi, è fallito due volte la società del canale sotto la manica. Le spesse di investimento non sono state affatto recuperate. All'inizio c'erano stati anche degli investitori privati che hanno rimesso fino all'ultima lira. Poi è intervenuto lo Stato francese una o due volte e a forza di ripianare il debito se si è raggiunto una situazione più o meno stazionaria, senza che sia fatto un grande affare. Invece dal punto di vista dell'impatto ambientale e sulla salute? Ma qui discorsi adesso molto generali sono difficili da fare. Linea di massima, linea ad alta velocità passeggiare provocano dei problemi acustici essenzialmente, cioè di disturbo da rumore. Nel nostro caso particolare, che è il caso della Torino-Lyon, i problemi sono sicuramente resi molto più difficili da risolvere dal fatto che ci si muove in una valle, in una valle particolare. Valle stretta, incassata tra alti monti. Se si sta nel centro della valle si crea un clima, allo scoperto, intendo si crea un clima acustico intollerabile, insomma non è un posto dove si possa far viaggiare fra vecchia linea e nuova linea, 500 treni al giorno, senza distruggere le capacità, insomma le possibilità residenziali della zona. E se si cerca di passare dentro la montagna, da una parte si trovano una straordinaria ricchezza di rocce amiantifere, che rappresentano un problema poi per la gestione dello smarino, cioè del materiale di estrazione dalle gallerie, oppure da altre parti si trovano regioni estremamente ricche di sorgenti che andrebbero quasi sicuramente perdute. Ci sarà sicuramente un problema di acqua. LTF, la società incaricata di presentare, di mandare avanti, insomma di studi di fattibilità e poi progetto preliminare, ha presentato un'ulteriore proposta di tracciato e il quale ai miei occhi ormai è una follia letteralmente, nel senso che pensano di passare nel mezzo della valle, ma sottoterra, all'interno dell'acqua, perché la falda è alta lì, a due metri, tre metri di profondità, un fondo ghiaioso, un fondo sedimentario, si trova l'acqua, con cassoni impermeabili, addirittura di interrare anche la vecchia linea, di fare le interconnessioni tra la vecchia e la nuova linea, anche se sott'acqua, una follia da un punto di vista ingegneristico e per di più lascerebbe dei problemi insoluti, sembra quasi incredibile, ma negli ambienti dei promotori di quest'opera, non so neanche io esattamente perché, ma sembra non esserci più nessuno che abbia qualche idea dei principi basilari dell'ingegneria. Cassoni di queste dimensioni saranno una specie di tamburo sotto le abitazioni delle persone che ci vivranno sopra, ammesso che sia possibile conservarli, loro dicono di sì, ma io penso di no, ci saranno dei problemi di sicurezza spaventosi perché all'interno di queste gallerie che sono appena superficiali passerà materiale pericoloso, tossico e infiammabile e quindi il minimo incidente provocherà esplosioni di queste gallerie con coinvolgimento di centinaia di persone e poi tanto per finire vogliono scavare, fare un cantiere per vent'anni in una zona in cui i terreni sono fortemente inquinati da quelli che vengono chiamati microinquinanti organici, sono diossine, policlorobifenili, sono prodotti del cloro, organici del cloro che sono particolarmente pericolosi sotto moltissimi punti di vista. La gente che si troverà all'interno di queste situazioni vivrà come dentro un cantiere e si troverà a respirare la polvere più tossica che si sia mai vista in circolazione. Sembra che non importi niente a nessuno di questo. L'ultima domanda sulla questione della democrazia. Immagino che lei abbia vissuto gli anni passati i movimenti contro le centrali nucleari, lei pensa che sia cambiata la forza dell'opinione pubblica dei cittadini di partecipare alla democrazia e alle decisioni? Devo dire che in realtà io non mi sono occupato di centrali nucleari, però la cosa che lei ha detto mi offre la possibilità di chiarire con un confronto come se sia drasticamente e profondamente modificata la situazione. Vede, quando c'è stata la discussione sul costruire o meno le centrali nucleari, ad esempio quella di Trino Vercellese, si viveva ancora in un mondo in cui c'era la convinzione che esistevano dei parametri tecnici, delle tecniche, dei metodi di discussione che andavano rispettati da tutti. Tant'è vero che proprio sull'opportunità o meno di costruire la centrale di Trino Vercellese si fu accettata una commissione presieduta da un professore del Politecnico di Torino in cui le varie opinioni sono state confrontate secondo dei metodi che comunque erano accettati. Quando è cominciata il problema, diciamo la storia della Torino-Lioni, io ho pensato da professore del Politecnico che si potesse ripetere e ho cercato in tutti i modi di ottenere che il Politecnico istituisse una commissione di studio sui problemi di cui parlavamo prima. Apparentemente è stato accettato poi è stato sabotato in tutti i modi possibili e immaginabili e nella sostanza i promotori non hanno voluto a nessun costo che si aprisse una discussione di questo genere. Mi bastava che ci fosse un ente con un minimo di neutralità, diciamo. E questo proprio al giorno d'oggi viene ormai rifiutato nella maniera più totale. Anche perché è in atto, secondo me, un processo di trasformazione che mira a distruggere l'autonomia degli istituti universitari e dei centri di ricerca. C'è un asservimento al potere economico che è sempre più schiacciante, cioè non lascia più nessuno spazio.